Dopo Sean Strickland qualche settimana fa, anche Sean O'Malley ha parlato, quando è stato ospite al podcast di Joe Rogan, di un possibile match-up tra Omar Vim Vettori e Alex Pereira. Sigla e ne parliamo! Bentornati amici di Fight for Yourse. Come detto, Sean O'Malley qualche giorno fa è stato ospite al podcast di Joe Rogan, The Joe Rogan Experience, lo conoscerete sicuramente tutti. Ormai non è soltanto più uno dei... anzi, il podcast di riferimento per quanto riguarda l'MMA, ma è uno dei podcast di riferimento a livello mondiale, con ospiti anche comunque sempre più spesso, non soltanto legati al mondo delle mixed martial arts e degli sport da combattimento, anche perché ormai Joe Rogan è un'icona, lo sappiamo, ed è anche per questo motivo comunque che lo vediamo meno al tavolo di commento della UFC negli ultimi anni e è ovviamente comprensibile così. Però, appunto, tornando all'episodio in questione, Sean O'Malley è stato ospite, Sean O'Malley che ha un ottimo rapporto ovviamente con Joe Rogan e ce l'ha avuto fino all'inizio con le sue iconiche interviste post-match in cui diceva di amare Joe Rogan, di volere bene a Joe Rogan e non è la prima volta che Suga è ospite appunto alla Joe Rogan Experience. In questo caso hanno parlato ovviamente, come spesso accade, dei temi di attualità principali per quanto riguarda il mondo del fighting nello specifico, quindi hanno parlato del match-up che sta ormai arrivando in realtà tra Islam Akhacher e Alexander Volkanovski, UFC 284, nella notte tra l'11 e il 12 febbraio a Perth in Australia, in generale di quello che è successo e chiaramente il tema portante in questo periodo è e rimane ancora, e probabilmente sarà così ancora per un po', il match fra Alex Pereira e Isvera Desania, il KO di Alex Pereira ai danni di Isvera Desania e in generale tutta la loro rivalità 3-0, insomma c'è tantissimo di cui parlare per quanto riguarda questo tema, questo match, questa rivalità e il prossimo passo di entrambi che comunque diciamo che teoricamente dovrebbe essere un passo l'uno verso l'altro ancora una volta se vogliamo perché non c'è ancora nulla di ufficiale ma entrambi hanno detto comunque che tendenzialmente il prossimo incontro, la loro prossima apparizione nell'ottagono sarà contro appunto l'avversario appena affrontato, sarà ancora una volta Isvera Desania contro Alex Pereira. Sean O'Malley ha detto in generale più volte in passato di non guardare tantissimi match, di non essere un follower se vogliamo assiduo di tutti i match, di tutte le card UFC però ovviamente per i match principali non può non sintonizzarsi e non guardarli e in questo caso ha parlato di questo match up, di come è andato il primo incontro tra i due e in generale poi però come dicevamo e come abbiamo detto più volte su questo canale di che cosa succederebbe invece se Alex Pereira affrontasse un tipo di match up più complicato per lui o comunque che lo porta più ad uscire dalla sua comfort zone quindi dalle fasi di striking perché ovviamente la domanda c'era già come c'è stata anche prima di lui per Isvera Desania in realtà è una domanda che ogni volta che Isvera Desania affronta un fighter con un ottimo wrestling o grappling viene ripetuta costantemente nonostante Desania abbia già dimostrato più volte di avere il talento o comunque di avere le skills necessarie quantomeno per tenere il match dove vuole lui e comunque anche se viene portato a terra, anche se gli prendono la schiena fare quanto basta per resistere, per difendersi e poi appunto per ritornare nella sua comfort zone questo tipo di domande adesso inevitabilmente arriva anche per Alex Pereira i nomi principali che vengono in mente quando si parla di match up di questo tipo un po' più complicati a livello stilistico per Alex Pereira sono guardando i ranking, guardando l'hype, guardando anche il senso che potrebbe avere anche in un prossimo futuro questi match i nomi sono quelli di Robert Whittaker, Marvin Vettori e Hamza Cimmer Hamza Cimmer ovviamente c'è l'asterisco del non si sa bene in che divisione combatterà d'ora in avanti cosa succederà se proverà di nuovo a fare i presi Welter e in generale chiaramente una title shot a Hamza Cimmer al momento non sarebbe assolutamente giusta ma se ne sta parlando perché si parla sempre di Hamza Cimmer da quando è arrivato e nello specifico non smette comunque di fare trash talking nei confronti di Pereira adesso Pereira sta anche iniziando a rispondere c'è stata la questione del match offerto nei pesi massimi leggeri addirittura per il UFC 283 quindi insomma c'è un botta risposta che adesso è sì un botta risposta continuo tra i due e quindi si parla anche di quello Sean O'Malley ha parlato proprio di questi tre match up separatamente per quanto riguarda il match con Whittaker Sean O'Malley ha detto che vorrebbe veramente vedere Whittaker contro Pereira però ha la paura, il timore, la sensazione che Pereira farebbe sembrare minuscolo Whittaker all'interno della gabbia e effettivamente anche questo è uno dei temi principali che si toccano ultimamente per quanto riguarda l'ex Pereira, la sua taglia, la sua stazza vedendo anche quanto pesava il giorno del match che ha postato anche un video lui lo posta molto spesso in realtà e si parla tantissimo di questo però comunque riesce a rientrare nella categoria dei pesi medi riesce a rientrare nel limite anche del championship weight quindi le 185 libri addirittura al weigh-in per il worth of 181 si è presentato a 184,5 se non vado errato in ogni caso fra l'altro ha anche chiarito poi la questione del peso all'ex Pereira quando è stato ospite all'MMA Hour dicendo la gente ha iniziato a parlare tantissimo e ancora di più della questione del mio peso perché mi sono presentato tardi al weigh-in quando mancava poco e ha detto era tutto programmato io volevo presentarmi tardi perché volevo prendermela più con calma che sia vero o no ovviamente questo non lo sappiamo e non lo sapremo mai fatto sta che si è presentato non soltanto con il peso esatto ma addirittura sotto peso di mezza libra quindi non c'è in realtà nulla a dire fin tanto che riuscirà a fare il peso si può avere la propria opinione ovviamente sul limite che bisognerebbe impostare per quanto riguarda il taglio del peso di un fighter se effettivamente tagliare tanto peso rischia addirittura di essere una sorta di modo per aggirare le regole se vogliamo e ne ha parlato lo stesso Joe Rogan in realtà nelle scorse settimane io personalmente sono dell'idea che se riesci a entrare nel peso alla fine hai ragione tu però appunto c'è tanto dibattito intorno a questo tema e ovviamente diteci anche la vostra a riguardo nei commenti sotto questo video però adesso passiamo appunto agli altri matchup di cui ha parlato Sean O'Malley per quanto riguarda il matchup con Hamza Cimev Sean O'Malley ha detto che lui scommetterebbe su Hamza Cimev onestamente in un matchup fra Cimev e Pereira non si è dilungato troppo su questo tema ma appunto ha detto che vedrebbe favorito il lupo per la questione appunto del matchup stilistico e quant'altro è un tipo di ragionamento che in tanti hanno fatto che è comprensibile come detto Cimev prima di portarlo a terra dovrebbe evitare tutto ciò che gli può tirare addosso all'ex Pereira e sappiamo che se all'ex Pereira ti tocca tendenzialmente ti spegne la maggior parte dei fighter va detto da favorita in generale la maggior parte degli opinionisti anche sta dando favorito Cimev in un ipotetico matchup tra i due io credo che comunque siamo ancora molto lontani da un ipotetico eventuale matchup tra Cimev e Pereira ma chissà che appunto con un passaggio full time di Cimev nei pesi medi non possiamo arrivare ad un match di quel tipo più in fretta del previsto sempre qualora all'ex Pereira dovesse continuare a mantenere il titolo e battere nuovamente Isvera Desani in quello che sembra un rematch ormai già preannunciato per quanto riguarda invece il matchup con il nostro connazionale Marvin Vettori Sean O'Malley ha sottolineato come la stazza di Marvin potrebbe essere un fattore anche da questo punto di vista perché da lì si è arrivati proprio parlando anche del matchup con Whittaker per Alex Pereira e appunto Sean O'Malley ha detto Marvin invece è veramente grosso e quindi da lì poi si è arrivati a parlare del matchup Vettori Pereira e dell'opinione di Sean O'Malley e di Joe Rogan Sean O'Malley ha detto riguardo al matchup tra Marvin e Poitain che secondo lui per quanto visto nel match fra Desani e Pereira vedendo come Isi abbia controllato e dominato a terra anche a tratti Pereira la sua idea, la sua ipotesi è che Marvin porterebbe a terra Pereira gli prenderebbe la schiena e riuscirebbe a sottometterlo però ha anche aggiunto Sean O'Malley non mi immagino qualcuno che voglio che comunque sia disposto che faccia senza problemi un tentativo di takedown con quelle ginocchiate che possono arrivare con quelle fly in knee che Pereira ha già mostrato di saper tirare con un timing perfetto anche nell'MMA e ovviamente fly in knee che ti spengono istantaneamente quindi Sean O'Malley che di base pensa che una volta a terra il matchup potrebbe essere nettamente favorevole anzi sarebbe nettamente favorevole a Marvin Vettori magari anche in maniera rapida da un certo punto di vista però appunto giustamente i match cominciano in piedi e Alex Pereira ha dei colpi che innanzitutto ti spengono e poi che possono anche se scelti col timing giusto possono neutralizzare completamente un tentativo di takedown quindi un'analisi ovviamente breve però un'analisi anche che comprendeva un po' tutti i possibili fattori per quanto un'analisi appunto fatta al volo in maniera anche se vogliamo superficiale in maniera anche un po' serena, rilassata da parte di Sean O'Malley ma un'analisi che ovviamente appunto tocca tutti i punti di cui si sta parlando in questo periodo perché ovviamente c'è il discorso se uno dei tre nomi citati o un comunque fighter con un alto livello di wrestling o grappling e o grappling porta a terra Pereira è vero che una volta che il match tocca a terra lì possono essere dolori e problemi per Pereira però è anche vero e questo l'abbiamo ripetuto più volte che i match cominciano in piedi quindi un'analisi ancora una volta molto interessante di Sean O'Malley anche sottolineata comunque da Joe Rogan che grossomodo si è detto d'accordo con tutti i punti toccati da Suga fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa analisi di O'Malley in generale di questi tre match up che differenze vedete se pensate che Pereira sarebbe magari favorito in alcuni di questi tre match up e sfavorito in altri e se sì il perché insomma diteci tutto quello che vi viene in mente tutte le vostre opinioni per quanto riguarda questi possibili match up e anche appunto l'analisi fatta da Joe Rogan e Sean O'Malley e ci vediamo nel prossimo video ciao ciao Grazie.